Rispetto a Ilaria Capoe io dico che gode della mia assoluta stima, è una validissima professionista, una professionista che ha dato lustro al Veneto, a tutta la sua squadra, insomma è una persona che gode della mia stima. Poi dopo di che le sue scelte politiche non le discuto, le auguro in bocca al lupo, se decide di fare politica è in bocca al lupo. E le domande sul filo della coerenza politica per il Presidente del Veneto sono state molte, ma come sempre ha risposto senza tradire turbamenti, se la capoe che va con Monti non cambia di una virgola, l'opinione verso la scienziata fatica un po' di più, Zai, a spiegare perché l'accordo PDL-Lega è un buon accordo, anche per chi del Cavaliere forse non ne voleva più sapere. L'accordo dice alcune cose importanti, il primo, il 75% delle tasse resta al nord, questo è il primo presupposto, i Veneti ne lasciano 18 miliardi all'anno a Roma, il secondo presupposto la presenza della regione Lombardia, il terzo presupposto conseguente è il riconoscimento della macro-ragione, cioè pensare che esiste una lobby del nord. Il quarto presupposto è quello ovviamente che abbiamo chiesto, che non ci sia come candidatura a presenza del Consiglio il capo coalizioni. E a sostegno della sua convinzione ricorda la fedeltà azzurra dimostrata a Palazzo Balbi anche con il mare in tempesta. A me interessa sottolineare che queste elezioni non saranno più le elezioni politiche canoniche, ma saranno un vero e proprio referendum pro-nord o contro-nord. Quanto al leader del PDL come possibile ministro dell'economia, rilancia alla segreteria generale il parere. E se sulle domande di politica nazionale si smarca, il governatore getta sulle decisioni del governo nazionale la responsabilità dei tagli alla sanità. Le famose schede ospedaliere sembrano congelate sino dopo il voto e c'è apprezzione tra le famiglie di anziani e disabili per la scura e sui servizi sociali. Noi stiamo lavorando affinché non ci sia alcun problema per le famiglie dei disabili e soprattutto per avere risposte. Il nostro obiettivo è quello di non cambiare lo status quo come si direbbe, cioè lasciare tutto com'è. Infine è presente il nuovo portavoce Carlo Parmeggiani e si concede una notizia personale. Ha vinto la causa nei confronti del radiologo Vicentino che lo aveva diffamato dichiarando che facesse uso di droga e illustra il risarcimento singolare richiesto al medico. Ho voluto che si fosse accertato che il sottoscritto non fa uso di droghe e lui si è scusato, ho detto che ha sbagliato a dichiarare questo, cioè a diffamarmi e soprattutto ho chiesto una piccola punizione che il dottor D'Azotto lavori 4 ore alla settimana per un anno intero gratis a favore dell'abbattimento delle liste d'attesa. Grazie.